Grazie a te, grazie, grazie, grazie. La numero 36, ragazzi, numero 36, chi è la 36? È qua, è qua, ciao, c'è un messaggio per te, ciao, come si chiama? Si chiama Anna, da dove vieni Anna? Viene da Napoli, sei venuta apposta per la serata? È venuta apposta per la serata, ha preso un treno veloce, è arrivata qua in tre ore, vero, circa? Tre ore e mezza, è venuta qua a reggimento, benissimo, come vorresti il tuo uomo ideale? Anzi, cosa fai nella vita? Io sono un manager chef. Una manager chef, fantastico ragazzi, incredibile, e come vorresti il tuo uomo ideale? Così? Non ce l'ha ancora. Non ce l'ha ancora, quindi sei in meditazione. Come lui. Bene, è in meditazione. Ora guarda, io ti lascio questo messaggio e spero che questo messaggio veramente cambi la tua vita. Bene, ci fai una foto con la mezza? Sì, bene. Quando mai vi capito più? Sì, sì, sì. Guarda. Oi, no, un'altra, dai. Vai, sì. Siamo belli? Eh. Bene, benissimo. Grazie a tutti.